Silvio Berlusconi torna al Palazzo di Giustizia di Milano per il processo Mediaset. Il presidente del Consiglio dei Ministri italiano deve rispondere insieme a una decina di altre persone di frode fiscale e irregolarità nella compravendita di diritti televisivi e cinematografici. Fuori dal Palazzo di Giustizia di Milano alcune decine di sostenitori di Berlusconi e anche dei contestatori. Negli anni 90 un imprenditore americano avrebbe fatto da intermediario fittizio per gonfiare i prezzi dei diritti e in seguito spartire con Berlusconi, suo socio occulto, obiettivo creare fondi neri e frodare il fisco, tutte accuse che la difesa del Premier respinge.